Intensa giornata di appuntamenti ieri per il Gentiloni a Ragusa, Catania, ma continuano anche gli appuntamenti elettorali per gli altri candidati in queste ultime ore per le amministrative 2018. Vasti incendi quelli di ieri tra Camarina e Scoglitti, ma anche a San Pieri, centinaia di metri quadri di vegetazione sono stati divorati dalle fiamme. Il giorno dopo l'emanazione dell'ordinanza da parte della regione che concede la proroga per il trattamento dei rifiuti nella discarica di Cava dei Modicani, il sindaco Piccitto punta il dito contro la regione, fa chiarezza. Torna a Ragusa per il nono anno consecutivo il festival letterario a tutto volume, dal 15 al 17 giugno la città capoluogo si prepara a vivere la festa dei libri e dei lettori. Nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli in apertura, ci occupiamo delle amministrative 2018, perché ci separano ormai poche ore dal silenzio, tutta la giornata di domani infatti sarà dedita come anche domenica alla riflessione sul vuoto. Quindi questi sono gli ultimi momenti per poter parlare e poter concedere spazio ai candidati per gli ultimi appelli e le ultime battute. Si terranno infatti anche i comizi per la stragrande maggioranza dei comuni coinvolti nel voto di domenica, proprio già questa sera. Iniziamo con la lunga giornata di ieri dell'ex premier Gentiloni in rappresentanza del Partito Democratico. Gentiloni ha raggiunto la città di Catania a sostegno della candidatura di Enzo Bianco, ma ha raggiunto anche Piazza San Giovanni a Ragusa per sostenere la candidatura di Peppe Calabrese. Il servizio. E' giunto Gentiloni a Ragusa per sostenere la candidatura a sindaco di Peppe Calabrese. L'ex premier ha tenuto un comizio in Piazza San Giovanni, una presenza prestigiosa che è destinata a qualificare ulteriormente l'azione sul territorio del candidato calabrese. Andiamo qui per sostenere Peppe Calabrese, che penso che sia il sindaco che ci vuole per Ragusa, una città meravigliosa, carica di storia e anche una città che deve affrontare le sfide del futuro, del lavoro innanzitutto. E penso che Calabrese sia la persona giusta per vincere questa sfida. A chiudere la campagna elettorale del candidato del Partito Democratico calabrese, sostenuto anche da quattro liste civiche, oltre a Gentiloni, fino a pochi giorni fa presidente del Consiglio in Carica, Giuseppe Lupo, capogruppo PD a Lars, il deputato del PD Nello Di Pasquale e il segretario provinciale Bartolo Giacquinta. Negli interventi è stato messo in luce il grande lavoro svolto dal candidato calabrese e dal partito per assicurare la vittoria in una contesa che si annuncia come una delle più combattute a Ragusa. Avere Paolo Gentiloni a Ragusa ci riempie di gioia e ci dà una grande speranza per cambiare verso una città che da cinque anni vive una stagnazione amministrativa totale. Noi siamo qui con 120 candidati, con tre splendidi assessori, con un candidato a sindaco, con un gruppo di parlamentari a seguito, soprattutto con la città, a cercare di dire dateci fiducia perché noi siamo una coalizione impegnata che ha raccolto le istanze dei cittadini, lo ha fatto dal basso, abbiamo costruito un programma importante in questi ultimi due mesi ascoltando la città, ascoltando le associazioni di categoria, ascoltando le contrade, ascoltando il centro storico, i commercianti, i residenti. L'ex premier Paolo Gentiloni nel pomeriggio ha fatto tappa a Catania per sostenere la candidatura del sindaco sciente Enzo Bianco che si ricandida alla poltrona di primo cittadino. Gentiloni ha incontrato una folla di sostenitori alla vecchia dogana al porto. Ci sono due cose, ha detto Gentiloni, che tutti riconoscono ad Enzo Bianco. È una persona di straordinaria competenza ed è innamorato di Catania. Credo che il sindaco Bianco ha dimostrato in questi anni capacità, esperienza, amore per la sua città ed è esattamente quello che serve in questo momento per il rilancio di Catania. Quindi io sono felice di essere qui per sostenere la candidatura di Enzo Bianco e penso che competenza, esperienza, visione, siano esattamente quello che serve oggi per governare una grande città come Catania. La parola è poi passata al sindaco Bianco che ha esordito. Paolo è un esempio vero per tutti quanti noi, per l'intero paese, perché è una persona per bene che rispetta gli altri. Poi ringrazia gli assessori uscenti e designati e si sofferma sull'impegno dei candidati inseriti nelle cinque liste a suo sostegno. Vedete, per le politiche si vota secondo la propria identità, per le regionali anche, ma per il sindaco di Catania occorre scegliere molto valutando la persona. Io penso di avere dimostrato di sapere fare il sindaco, Paolo Gentiloni da Presidente del Consiglio mi è stato molto vicino, lo sarà ancora oggi, come lo sono tutti gli altri, anche di altre forze politiche che hanno con me rispetto e stima. Pensate che mi hanno eletto all'unanimità Presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci, di tutti i sindaci d'Italia e che io dirigo la delegazione italiana a Bruxelles, al Comitato delle Regioni, con il voto di tutti i presidenti delle regioni, di tutti i colori politici. Ci spostiamo, ci spostiamo, andiamo a Modica dove lancia l'appello al voto invece il sindaco uscente Ignazio Abate, nonché candidato. Il sindaco Abate non scende in richieste solamente autoreferenziali, ma chiede ai cittadini modicani comunque di andare a votare, a prescindere da chi voteranno. Intanto nella giornata di oggi, come anche nelle altre giornate che hanno preceduto oggi, si sono tenuti lavori di manutenzione, soprattutto riflettori puntati questa volta su Treppiedi. Contrada Treppiedi, il quartiere, scusate, Treppiedi, dove insiste il plesso Falcone della Raffaele poi domani di Modica, perché verrà consegnato il campetto e sono state rifatte le strade. Ultime ore di campagna elettorale. Ignazio Abate, sindaco uscente a Modica, ha parlato di quanto fatto in questi anni. Cinque anni dediti alle opere pubbliche, alle manutenzioni e alla progettazione della quotidianità. Decoro urbano e manutenzione stradale, ma anche missioni e progetti, tra cui l'IGP del cioccolato di Modica, le manifestazioni estive e i concerti. Una modica che ha definito essere uscita dal tunnel dell'inerzia, cui era sottoposta negli anni precedenti. Tante le opere consegnate alla città. Ultima in ordine di tempo, quella che sta per avvenire in queste ore con i lavori a Treppiedi Nord. Il quartiere, oggetto più volte di richieste da parte dei residenti e di esponenti del Consiglio Comunale, adesso torna ad avere dignità. È stata riasfaltata la strada, sono stati aperti i collegamenti, verrà aperto il campetto di calcio, tanto richiesto dai ragazzini della zona, ma soprattutto è stata posta sicurezza nell'arteria di Corso Sandro Pertini, teatro anche di incidente mortale. È stato creato un attraversamento pedonale ed è stata anche potenziata l'illuminazione negli ultimi anni. Un dovere, secondo Ignazio Abbate, che ha sottolineato adesso come sia importante domenica andare a votare. La scommessa è questa, non solo il fatto di essere riconfermato, di avere la fiducia di tutti i modicani, ma la scommessa è anche che i modicani, proprio per questo senso civico e per la vicinanza vicino a un'amministrazione del fare, che diano anche una risposta e che in massa vanno a votare, perché voglio ricordare che si vota soltanto nella giornata di domenica, quindi questo è anche quello che chiediamo. Dopo cinque anni di grande sacrificio, di estenuante presenza al Palazzo San Domenico, ma accanto a ogni singolo modicano, in tutti i quartieri della città, ora l'unica cosa che chiedo a fine di questa campagna elettorale è quella che tutti i modicani vadano a votare e che vadano a votare sicuramente per sostenere noi, ma la cosa più importante è il senso civico, il senso civico di votare e poi di sostenere un'amministrazione che ha voluto dare in questi anni tante risposte e poter dare anche una possibilità di un futuro per questa nostra città e per il nostro comprensorio. I lavori di cui vi abbiamo parlato in questo servizio, i lavori che si stanno svolgendo proprio in queste ore, in quartiere Treppiedi, scusate, ormai mi sono fissato che è una contrada, nel quartiere Treppiedi, nel cuore della città di Modica, sono lavori che sono stati richiesti durante questi anni anche dal consigliere Tato Cavallino. Più volte, infatti lo abbiamo raccontato anche nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale, il consigliere Cavallino aveva sottolineato l'esigenza di donare dignità a quel territorio. Oggi il consigliere Cavallino esprime soddisfazione per la richiesta accolta dal sindaco di Modica, Ignazio Abate, ed esprime soddisfazione anche per i lavori portati a termine dall'amministrazione. Tante denunce sulla zona Treppiedi, il sindaco di Modica, Ignazio Abate, ha accolto le sue numerose proposte di questi anni, lei oggi esprime soddisfazione? Sì, possiamo dire meglio tardi che mai. Finalmente abbiamo visto la strada di Corso Sandro Pertini asfaltata, sono ripresi i lavori del contratto di quartiere, quindi le continue richieste, in molti casi anche la mentele fatte ad alta voce da parte mia, di tutti i residenti e dell'amica Giussi Lipari, sono state ascoltate dal nostro sindaco. Esprime soddisfazione, è solamente il primo passo di quello che deve essere il completamento dell'intero quartiere e con l'augurio che il sindaco, chiunque sia dall'indomani del nuovo insediamento al Palazzo San Domenico, possa attenzionare quella zona in maniera costante e non sotto magari periodi elettorali o altro. Dal quartiere, quartiere Treppiedi, ci spostiamo invece nella restante parte della città con il caos determinato dalla raccolta differenziata. È la denuncia che arriva dal candidato sindaco dell'area di sinistra, Salvatore Poi Domani, che sottolinea come oramai l'Igm, ovvero la società che gestisce il servizio di nettezza urbana in città, abbia gettato la maschera perché sono tornati i cassonetti di una volta e la raccolta differenziata pare sia stata realmente un fallimento. Sottolinea i nostri microfoni, poi domani. Dare uno slancio maggiore alla città di Modica, creare percorsi turistici che possano coinvolgere anche le campagne, il centro storico e la parte balneare, risanare il bilancio stimando quel debito di circa 150 milioni dalle stime della minoranza uscente, ma soprattutto ripristinare il confronto in Consiglio Comunale ed avviare un percorso etico come spirito politico reale, annientando la mancanza di confronto e di proposte, caratteristica di questi ultimi cinque anni. Il candidato Salvatore Poi Domani in queste settimane ha denunciato come Abate abbia inaugurato tutti i giorni qualcosa, atto ha sottolineato discutibile sotto il profilo dell'ecito. Tra i servizi partiti ha anche la differenziata che si preannuncia per il candidato un vero e proprio fallimento con rifiuti in giro e sconoscenza delle modalità di conferimento. Oggi l'Igm ha gettato la maschera perché ha testato, ha provato, ha testato formalmente il fallimento della differenziata. Se andate in giro per la città sono ricompassi vecchi cassonetti, peraltro manco di proprietà dell'Igm, vecchi cassonetti verdi sono ricomparsi perché appunto in questi giorni ci siamo resi conto, è inutile che lo parlo, che lo dico ai cittadini modicani, l'abbiamo toccato tutto con mano, l'impossibilità, l'inefficienza, i disservizi. Da tutte le parti della città, dal centro, in periferia, nelle campagne ci siamo resi conto come questa impresa non era in condizioni, non ha la struttura, l'organizzazione per portare avanti la raccolta differenziata. E questo a fronte di un raddoppio del costo del servizio, ricordo a tutti i modicani che noi pagavamo nel vecchio appalto 4 milioni di euro l'anno per la raccolta dei rifiuti, è salita a 7 milioni, quindi quasi raddoppiata, facevamo il 9% di raccolta differenziata, ora siamo al 12% al fronte del raddoppio della nostra bolletta, è veramente il fallimento assoluto decretato. E poi un'altra cosa vorrei aggiungere a proposito di questo, che questa è una società che non rispetta il decoro, andate a vedere dove erano stati posizionati tutti questi cassonetti in piena curva, davanti a monumenti, ad opere d'arti, a modica bassa di fronte al Banco di Sicilia, sono stati messi sui marciapiedi impedendo alle persone con disabilità di accedere sui marciapiedi, è veramente una cosa assurda. Come argomento parliamo adesso di cronaca e torniamo a parlare degli incendi che ieri hanno messo a dura prova il nostro territorio, il bilancio in questo servizio che parla anche delle operazioni che si sono protratte sino a mezzanotte. Sono durate sino a mezzanotte le operazioni di spegnimento del vasto incendio che dalle 14 di ieri ha messo a dura prova tutto il territorio di Scoglitti e Camarina. Ad essere coinvolte anche due zone SIC, tra cui l'area archeologica. Un incendio che ha divorato centinaia di metri quadri di terra e vegetazione, ancora però non si conosce quanta macchia mediterranea è stata coinvolta dall'incendio. Ad essere interessata anche l'area circostante, il Club Med Camarina, per precauzione ai turisti presenti all'interno della struttura, sono stati fatti evacuare, così come anche il personale. Hanno atteso in spiagge e sono stati poi trasferiti in vicine strutture ricettive. Circa 700 persone, in gran maggioranza stranieri, dopo essere stati fatti convogliare in un primo momento in spiaggia, sono stati successivamente trasferiti, infatti in sicurezza, presso il vicino Atena Resort, dove hanno potuto attendere la fine delle operazioni. operazioni. A parte malesseri generali, per lo più per il panico, non si sono registrati casi allarmanti. Sul posto quattro associazioni di volontariato, tre da Ragusa, una da Santa Croce Camerina e un'associazione sociosanitaria. Una straordinaria sinergia ha permesso di limitare i danni grazie all'intervento dei volontari, ma soprattutto grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e impegnati per ore in quei luoghi. Dalla protezione civile si apprende che la natura del rogo, per le caratteristiche e per la distanza dei focolai, circa 500 metri l'uno dall'altro, potrebbe essere di natura dolosa. Comunque la procura ha aperto un'indagine. A Stampieri, invece, a confine con Marina di Modica, dove insiste anche il pantano, è stato divorato dalle fiamme sino a tardasera un vasto numero di metri quadri di vegetazione. Anche in questo caso, come per il vittoriese, si è ricorso all'utilizzo di mezzi aerei, tra cui l'impiego di un terzo Canadair, che si è reso necessario per l'entità del rogo, come per i due spediti su Camarina. Nel pomeriggio il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, ha convocato in prefettura il centro di coordinamento soccorse al quale hanno partecipato tutti i soggetti del sistema di protezione civile. Al termine della riunione è stato disposto il trasferimento degli ospiti del club Med Camarina presso la struttura da dove erano stati fatti evacuare. Inoltre è stata mantenuta la presenza ininterrotta per tutta la notte di tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di bonifica e di volontari della protezione civile. Al termine della riunione il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, ha ringraziato tutti per la professionalità mostrata nel fronteggiare i due casi che si sono verificati a Camarina e San Pieri. Gli incendi che hanno già provocato danni alle serre nel Ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un'altra stagione come l'estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari a lanciare l'allarme il presidente col diretti Sicilia, Francesco Ferreri, dopo che ieri diversi roghi hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camarina e costretto all'evacuazione dal Club Med di Camarina. Cambiamo argomento, parliamo di Ragusa perché oggi parla il sindaco Piccitto che punta il dito contro la regione in riferimento alla discarica. Fino a quando sarà questa proroga? L'ordinanza che ci è stata notificata ieri autorizza l'impianto dal 7 giugno fino al 30 di novembre 2018 e ovviamente la regione dovrà nei prossimi mesi necessariamente fare emergere il provvedimento di Aia. Tra l'altro con lo spostamento di questo tipo di impianto fuori dalla vasca si potrà aumentare anche la potenzialità dell'impianto. Oggi è 100 tonnellate al giorno, domani sarà 146 tonnellate al giorno. Significa avere più capacità anche per i comuni che in questo momento soffrono la stessa emergenza in altre discariche perché il problema è il trattamento dei rifiuti, non tanto le vasche. L'ulteriore proroga al 30 novembre prossimo fa tirare un sospiro di sollievo al sindaco di Ragusa Federico Piccitto. Scongiurata l'emergenza rifiuti il primo cittadino ha voluto fare chiarezza sulla vicenda relativa alla discarica di cava dei modicani. Oggi in un incontro a Palazzo dell'Aquila ha spiegato le sue ragioni puntando il dito contro la regione che non avrebbe provveduto per tempo a concedere l'autorizzazione integrata ambientale lo scorso marzo. Autorizzazione che avrebbe consentito al sito ebleo di uscire dal contesto delle ordinanze straordinarie ed operare in regime di ordinarietà per il trattamento dei rifiuti che successivamente devono essere conferiti nelle altre discariche siciliane. L'AIA avrebbe anche consentito di aumentare il volume di conferimento nel sito ebleo. Cava sarà in prospettiva un sito di trattamento dei rifiuti anche per tutta la provincia con queste capacità perché abbiamo dei dati interessanti per quanto era la raccolta di differenza da Ragusa che già è aumentata di parecchio. Siamo al 38% considerando tutta la città con la zona 1 che è sopra il 60% quindi anche questo è messo nell'ultima conferenza fatta. Quindi questo è già un elemento di grande importanza perché noi riducendo la parte nostra potremmo avere anche più capacità per tutti i comuni. Rimane il tema del sito di conferimento che non può essere la quarta vasca, lo ribadisco ancora una volta, è un progetto irrealizzabile, una chimera assoluta sia in termini di tempi di realizzazione perché se la regione in alcune cose che ci stavano pochi mesi si sta facendo aspettare anni, immaginate cosa vuol dire autorizzare una nuova vasca. In un sito che non lo dico io, lo dice la provincia, gli studi geologici non è un sito idoneo o non ha o meglio un'edoneità così come altri siti della provincia quindi diciamo che nella scala delle scelte Cava è tra le ultime per poter essere autorizzata come ulteriore vasca semmai bisogna fare dei lavori per bonificare, completare, sistemare dei presidi ambientali. Fortinelle Campagne, 5 arresti a Ispica. I militari dell'arma sono giunti sul posto appena in tempo per cogliere sul fatto i ladri mentre caricavano diversi quintali di anguria su due autovetture senza il consenso del proprietario del fondo né del titolare di una ditta impegnata nella coltivazione di frutti e ortaggi. L'episodio è avvenuto in territorio espicese, più precisamente incontrato a Cava Filo dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti ieri a seguito di una segnalazione che indicava un ingente furto di anguri e dalle serre deputate alla coltivazione di frutta e verdura. Ed è così che sono scattate le manette per 5 persone d'età compresa tra 26 e 57 anni. Si tratta di Giuseppe Sanfilippo, Piero Russo, Domenico Marco Bertolo, Agatino Trovato e Fabio Satrano, tutti soggetti gravati da precedenti specifici. A seguito delle formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione del PM di turno della Procura di Ragusa in attesa di giudizio. I 5 malfattori di origine catanese sono stati bloccati e la rifustiva interamente recuperata è riconsegnata al legittimo proprietario. I 5 all'arrivo delle pattuglie avevano già portato via circa 700 kg di frutta per un valore di circa 500 euro. Operazione della DIA a Catania. 300.000 euro è la somma del valore complessivo dei beni confiscati dal DDA di Catania, diretta dal dottore Renato Panvino nei confronti di Francesco Cambria, 34 anni, soggetto ritenuto vicino al noto clan mafioso Cappello Buonaccorsi. Il provvedimento finalizzato alla successiva confisca dei beni riguarda i beni mobili e immobili, somme di denari e una ditta individuate a conclusione dei complessi accertamenti patrimoniali delegati alla DIA e riconducibili direttamente o indirettamente a Francesco Cambria, figlio del più noto Andrea Cambria, soggetto ritenuto organico al clan mafioso Etneo Cappello, nei confronti del quale già nell'ottobre del 2017 la DIA di Catania aveva eseguito il sequestro di autoveicoli e somme di denaro per un valore di circa 200.000 euro. Francesco Cambria vanta svariati precedenti penali di polizia per reati contro il patrimonio alla persona e in materia di stupefacenti, essendo stato tra l'altro tratto in arresto nel 2003 per tentata rapina e nel 2010 per i reati in materia di sostanze stupefacenti. In quest'ultima circostanza concorreva nel reato il fratello Sebastiano e arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia Femili, in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte di un'organizzazione criminale armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, con l'ulteriore aggravante dell'agevolazione del clan mafioso Cappello Karatedu, non chiede reati per la commercializzazione degli incenti quantitativi di sostanza stupefacente commercializzata. Sempre nel 2010, mentre si trovava agli arresti domiciliari, era stato colto e arrestato in flagranza e analoga condotta criminosa per la quale veniva condannato alla pena di due anni di reclusione. Nel 2003 e nel 2012 è stato sottoposto all'avviso orale da parte del questore. I minuziosi e complessi accertamenti patrimoniali svolti dalla DIA nei confronti di Francesco Cambria hanno dunque consentito non solo di pervenire ad una puntuale ricostruzione del suo profilo criminale che ne ha evidenziato la spiccata pericolosità sociale, ma anche di accertare in base all'attività svolta dallo stesso la rilevante sproporzione tra i redditi indichiarati e gli arricchimenti patrimoniali del soggetto, evidentemente provento dell'attività delittuosa. L'esito della complessa e articolata attività svolta è stato condiviso dal Tribunale Senzione e misure di prevenzione che ha emesso un provvedimento ablativo in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro anche benefitiziamente intestati alla moglie, in particolare una ditta individuale, quattro immobili, tre automezzi e somme di denaro per un valore complessivo stimato in circa 300.000 euro. Si è spacciato per un medico dell'Inps e ha sottratto a una 81enne 1.500 euro. L'episodio è accaduto intorno alle 9 di questa mattina a Vittoria dove una donna fingendosi un medico dell'Inps ha persuaso un'anziana a farla entrare a casa e poi con il pretesto di una visita medica ha accompagnato l'anziana in camera da letto. Una volta in camera l'ha spintonata per poi frugare nei cassetti del Comodo e ha ritrovato 1.500 euro con tanti che le ha sottratto per poi far perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione dove la donna si era recata per sporgere denuncia. L'appello ai nostri telespettatori, ai più anziani è quello di stare attenti dopo il caso di Rosolini, di non aprire a persone che si spacciano per medici, di contattare subito i familiari, di chiamare i figli, i nipoti per chiedere se era prevista questa visita medica. Questo può essere un buon metodo per contrastare questi truffatori che non definiamo essere persone sicuramente brave e dignitose. e ci fermiamo qui perché è meglio. Pubblicità tra poco. Ben ritrovati, subito dopo la pausa pubblicitaria apriamo con una bella notizia che arriva da Scicli perché è stata festeggiata nei giorni scorsi la signora Carmela Occhipinti di Scicli che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni d'età. A portare gli auguri da parte di tutta la città il vice sindaco del comune di Scicli Caterina Riccotti a nome anche dell'amministrazione comunale. La signora Carmela è vedova, gode di buona salute ed è lucida. Cambiamo argomento e parliamo del Vittoria Jazz Festival. Il Vittoria Jazz Festival, tre concerti di grande interesse che animeranno le giornate di oggi, domani e domenica. Si parte questa sera alle 22 con Caedano Partipilo e la sua formazione Contemporary Five che presentano il suo ultimo lavoro, Daylight, e il suo primo album del sassonofonista barese pubblicato dalla casa discografica di Paolo Fresu. Sul palcoscenico di Piazza Enriquez, oltre a Gaetano Partipilo, saliranno Alessandro Lanzoni al pianoforte, Francesco Diodati alla chitarra, Luca Le Manno al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria. Domani invece è la volta di Giovanni Falzone col suo tributo a Duke Ellington. Falzone è uno dei più interessanti e creativi trombettisti europei e con questo lavoro alla sua prima uscita in Sicilia rilegge la Far East Suite di Duke Ellington accostando quattro brani della suite originale e altrettanti i suoi brani originali concepiti e scritti come omaggio al pensiero musicale di Ellington. Ne viene fuori un mix intrigante di All Day New Jets con esplosioni di Medio e Lontano Oriente. Domenica si chiude invece col lavoro Beautiful Story che è il nuovo progetto discografico realizzato da uno fra i più apprezzati e autorevoli contrabbassisti, jazz e compositori italiani, Rosario Bonaccorso. Il musicista siciliano sceglie ad hoc tre fuggi di talenti del panorama jazzistico nazionale per questo suo lavoro. Dino Rubino al Flicorno, Enrico Zanisi al Pianoforte e Alessandro Paternesi alla Batteria. Il concerto di Bonaccorso punta a coniugare modern jazz e contemporary jazz dal quale si leva un inebriante fragranza di mediterranietà. Rosario Bonaccorso con una classe cristallina più unica che è rara unitamente a un'abbagliante sensibilità narrativa e un'incantevole grazia interpretativa dona la parola al suo contrabbasso raccontando la sua musica con una generosità comunicativa che lascia con il fiato sospeso. Andiamo adesso a parlare invece di tutto volume presentata alla stampa, giunta alla nona edizione. Clara Sanchez, Aldo Cazzullo, Alessandro Milan, Gianluigi Nuzzi, Gerardo Colombo e Alessandro Robecchi sono solo alcuni dei nomi tra i tanti autori inseriti nel corposo programma della nona edizione di A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Il festival del libro che si terrà nella città capoluogo dal 15 al 17 giugno è stato presentato stamani a Palazzo dell'Aquila. Un evento che accosta sin dalla prima edizione la bellezza architettonica e naturalistica del territorio al fascino dei libri. Molti i siti individuati in diversi punti del centro storico di Ragusa Superiore e di Ibla. Sono 35 tutti i nomi di primissimo piano ma penso che il nome conti fino a un certo punto proprio l'idea della festa l'idea dello stare assieme attorno ai libri l'idea di ritrovarsi come città, come comunità a stare fuori fino a tardi, a parlare, a dialogare sui libri, sugli argomenti di cui si parla appunto nei volumi che vengono presentati stare con gli autori una caratteristica di A tutto volume è che gli autori proprio vengono con le famiglie moglie, figli e stanno per tutto il weekend quindi c'è quest'idea della città che viene letteralmente invasa dagli scrittori e gli scrittori poi sanno farsi ambasciatori quando tornano alle loro case della bellezza dei nostri luoghi della nostra capacità di accoglienza. Nel programma del festival è inserita la sezione extra volume che darà spazio in modo spontaneo al fenomeno culturale dei territori. Continua il successo della manifestazione letteraria ideata e promossa da Alessandro Di Salvo insieme alla Fondazione degli Archi con il patrocinio del Comune e della Regione. Insieme alla non edizione di questo evento fantastico nel nostro centro storico diviso fra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla evento a tutto volume Libri in Festa che ogni anno porta molti editori molti scrittori diversi personaggi del mondo italiano li porta a Ragusa a presentare il proprio libro e di questo dobbiamo dare atto al promotore alla Fondazione degli Archi a Santo Di Salvo in prima persona che ogni anno riesce sempre a far sì che questo evento riesca al meglio. 150 partecipanti suddivisi in 15 squadre da 8 giocatori ciascuno sono i numeri del torneo misto di calcio balilla umano promosso in occasione della Festa del Preziosissimo Sangue del Nostro Signore Gesù Cristo nella parrocchia di Via Ettore Fiera Mosca a Ragusa che ha chiuso i battenti mercoledì scorso con la gara finale. Al primo posto si è classificata una squadra di giovanissimi denominata Acipruamu e al secondo posto la nuova logistica ragusana mentre sul gradino più basso del podio è arrivato il team denominato Scaduto il Sindaco. La cerimonia di premiazione è in programma domani nel cortile della parrocchia alle 21. Moto d'epoca adesso dalle moto Guzzi e poi passando per Piaggio BMW e Triumph è stato un trionfo la quattordicesima edizione di Moto Storiche nel Barocco Ibleo organizzata dal Veteran Car Club Ibleo è andata in scena lo scorso fine settimana tra le strade della provincia di Ragusa a Scicli domenica scorsa sulle basole di Via Mormino Penna le moto storiche che hanno partecipato alla Kermesse non sono passate affatto inosservate è tutto grazie per averci scelto buon proseguimento